oh sono cotti ciao a tutti sono raffaelli raffaele di pesaro via fratti locale polvere di caffè panificio storico dal 1970 la nostra è una produzione varia e dal panificio alla pasticceria dove produciamo tutto quello che può essere dal forno alla pasticceria dalle prime colazioni a tutti i tipi di pane e tutti i panni di nostra produzione nel 2011 abbiamo iniziato la nuova attività pensandoci sulle attrezzature tramite la conoscenza con si vestiti di thomas abbiamo utilizzato forni celle ferme lievitazioni abbattitori tutto dell'esbac bongard una cosa importante è l'utilizzo che stiamo facendo con la macchina del lievito dove ci produce il nostro lievito abbiamo già anche dei cinque punti vendita fatti sempre con questa attività visto che ci lavorava molto bene lo spazio ce l'abbiamo abbiamo incrementato con altri cinque punti vendita speriamo di incrementare un altro po il nostro lavoro sempre in collaborazione con con esma che bongard rifornendoci con le loro attrezzature veniteci a trovare qui via fratti al polvere di caffè e seguiteci anche sui social